E per tutti ragazzi, per me non dico questo video, io sono 5 in questo video, in cui prima la serie di Kevin Sand contro Kukesi, match per la qualificazione per l'Europa League, in cui Raga è finita, 3-0 con la vizzera del Kukesi, in cui ragazzi nel primo tempo le due squadre erano finite in parità, ma poi anche nel primo tempo le due squadre hanno provato anche a trovare una rete di vantaggio. Poi nel secondo tempo è cambiato tutto, il Kukesi ha preso la meglio e quindi ha segnato il primo gol a Kepen, che è concesso 1-0, poi ha segnato il 2-0 a Vaga, che è concesso 2-0, poi nel 3-0 ha segnato la doppietta di Vaga. Quindi ragazzi, adesso il Kukesi sarà il prossimo avversario che andrà a sfidare il Torino nei premi inari di Europa League. Quindi ragazzi, il Kukesi porta questo vettore a 3-0, dopo che il Kukesi, non in tutta la partita, anche non ha fatto niente, ma nel primo tempo è riuscito a dare testa a testa, è riuscito a fare pari al Kukesi. Quindi ragazzi, il Kukesi schiaccia il Kukesi, quindi ragazzi, il Kukesi, come ho detto prima, sarà il prossimo avversario che andrà a sfidare il Torino, perché adesso è ancora ufficiale, ma vedremo un po' chi vedrà, chi si quadrificherà per la Coppa League insieme alla Roma, spero per il Torino, ecco, spero. Quindi ragazzi, il Kukesi non riesce a battere il D-S-R-E, ragazzi, scusate se questo è solo un po' squadra, un po' difficile da pronunciare, ma ci sto provando. Quindi il Kukesi, ragazzi, ha riuscito a battere il D-S-R-E, che non andrà a giocare i priminali, è stato eliminato, è stato eliminato per la qualificazione. Allora, magari che spero, ragazzi, per il Torino, che non faccia la fine della tante, che ricordate la tante Copenaghen, in cui ha vinto Copenaghen, la spero, proprio, e quindi ragazzi, è stata una bella partita, 3, 3, 3 paperelle, 3, 3 reti, fatte al Kukes Ed, quindi, il desiderio posto senza questa vittoria è molto importante, anche per la qualificazione, che andrà a sfidare il Torino. Quindi raga, da lui è tutto, noi sempre diciamo questi video Da lui è tutto, noi sempre diciamo questi video Noi ci vediamo con il prossimo video Di caccio ovviamente E noi ci vediamo come sempre Ciao Da lui è tutto, vi facciamo questi video Ciao